Io sono sempre stato molto calmo perché è una fase in cui bisogna lavorare a testa bassa e le critiche in questo momento anche per un rapporto di collaborazione tra enti è bene tenersele per dopo. Però ora sono molto preoccupato per la gestione dei rifiuti perché questo fatto di avere solo i mezzi di alia a disposizione per tutti questi rifiuti che abbiamo sul nostro territorio è del tutto insufficiente. Io lo dico ora, prima che non si arrivi tra qualche giorno a incominciare a chiedere aiuti alle altre regioni. Noi dobbiamo chiedergli ora aiuti ad ERA e ad altre aziende pubbliche e non del nostro territorio anche fuori Toscana. Così è stato fatto in Emilia Romagna e così dobbiamo fare in Toscana perché con soli mezzi di alia non ce la facciamo. Non possiamo stare due settimane con i rifiuti ingombranti nelle strade anche perché rischiamo di bloccare a un certo punto le colonne mobili che non possono accedere ai garage a pompare l'acqua perché ci sono le montagne di rifiuti. Ed è questa la riunione che ho appena concluso e sul quale sono stato molto pesante. Insieme a me anche il sindaco Matteo Biffoni di Prato occorre agire ora e non tra 24-48 ore per richiedere aiuti anche fuori territorio per i mezzi di raccolta rifiuti. Chiaro.